I lavori per ripulire e mettere in sicurezza il versante sono partiti, ma è ancora presto per dire quando potrà essere riaperta la strada. A due giorni dagli smottamenti per il maltempo resta chiusa dunque via Perciviglio, all'altezza del Bibio con via Grotta. Oggi sono iniziati gli interventi di pulizia in zona, con il taglio degli alberi e l'asportazione del materiale instabile, alla presenza di operatori specializzati e rocciatori. Le operazioni continueranno anche domani, quindi verrà effettuato un altro sopralluogo a Monte della Scarpata, per verificare le condizioni della strada sterrata che presenta evidenti segni di cedimento. Solo al termine dei lavori dunque sarà possibile stabilire gli interventi necessari e la tempistica per la riapertura della via al transito di auto e pedoni. I residenti della parte alta di via Perciviglio, per raggiungere le abitazioni, dovranno usare percorsi alternativi da brunate o da ponzate. Nonostante il divieto però, qualche motociclista anche oggi si è avventurato lungo la strada, così come alcuni abitanti della frazione, per raggiungere a piedi la fermata del bus al Bibio con via per brunate. A questo proposito, da SF Autoline fanno sapere che al momento non è prevista alcuna navetta, ma l'azienda sta valutando la possibilità di creare un collegamento fra Tavernedio e Civiglio. In città, intanto, il lago di Como sembra aver arrestato la sua avanzata verso piazza Cavour. L'acqua in uscita oggi superava quella in entrata e il livello dell'aio è diminuito di circa 7 centimetri. Dopo il superamento della soglia critica di 120, infatti, da ieri sera è iniziata la discesa e oggi, al 17, all'altezza della navigazione, il livello era di circa 113 centimetri.